Volge al termine il torneo di calcio comune di Ripalimosani, giunto alla sua quinta edizione. Anche quest'anno la solida macchina organizzativa del comune alle porte di Campobasso ha allestito una manifestazione di grande rilievo, combinando lo sport al divertimento. Ieri sera il Marco Vita Antonio ha ospitato le ultime due gare della fase eliminatoria a Gironi. A chiudere il quadro le quattro squadre del Girone B. Bar Pizzeria da Michele Amatori Spinete, terminata 0-3, a seguire padroni di casa dell'APD Ripalimosani, si sono imposti 4-1 su assicurazioni generali Sernia. Dalla prossima settimana al via ai quarti di finale, lunedì alle 20, una gara che si prospette equilibrata tra Costruzioni Romano e FAPECAR. A seguire alle 21.30 in campo Lunamora Utopia Baranello, due squadre che negli scorsi anni hanno alzato la Coppa. Martedì la prima delle due gare sarà a Pizzeria da Rino Assicurazioni Generali Sernia, un quarto di finale che alla vigilia promette grande spettacolo tra due squadre ben organizzate. Subito dopo spazio all'ultimo match, quello tra i campioni uscenti dell'APD Ripalimosani ed Amatori Spinete. Giovedì e venerdì sono in programma le semifinali con la finalissima del torneo che si giocherà nella prima settimana di luglio. Per il quinto anno consecutivo il torneo di calcio Ripalimosani ha regalato partite di altissimo livello. In tanti hanno voluto mettersi in gioco. I tornei estivi, si sa, sono il miglior modo per non perdere l'allenamento in vista della stagione calcistica alle porte, ma rappresentano soprattutto l'occasione per trascorrere una serata in compagnia. Una volta in campo, per tutti la voglia di vincere è tanta. Ricordiamo anche che quest'anno il Montepremi ammonta 2.500 euro in buoni acquisto. Dal 27 giugno inoltre al via anche il torneo special di calcio femminile a 8, una novità che gli organizzatori hanno voluto inserire nel classico torneo estivo per valorizzare anche il calcio in rosa. In campo la formazione locale, il boiano ed il mirabello.